Salute a tutti, ora è già di compiere E-Compacui, noi due ore, per compiere dunque questa settimana, ci andiamo tra Murzo e Biggo, per edrua un cabradio che fa già di noi l'allivio, si chiama Fredi Albertini. RCFM E-Compacui C'è un link da parte di mio abbo, che ha sempre fatto bastare qui in Avriciani, dunque mi piaggiavano i suoi animali in Avriciani inglese, e dopo montagnavano in iolo di Stadino. Dunque Biggo, mi sono andato qui, sono andato a scuola in Biggo, e dopo un 2009 ho scontato la mia moglie che è di Murzo, e ho avuto la fortuna di comprare i suoi pezzi di Reno in 2011, e dopo ho avuto la mia esploatazione qui e ho sviluppato poco a poco. E qui ho avuto un taglio di Gabri, faccio un formaggio fresco, un formaggio vato, un broccio, e dopo faccio appena due d'alireno, ho avuto 200 litri all'anno, e quest'anno ho avuto una sessantina di giorni iberi in Avriciani, e qui ci sono sempre stati all'io, ma era un gatti uscato, e abbiamo cominciato a scabare lì, a nittare i beti, a teò, e poco a poco proviamo a sviluppare l'attività. Allora, Gaza era in ruina quando abbiamo romputo Dejanivà, abbiamo cominciato a arrivare a Udetto, e poco a poco, con i nostri mezzi, abbiamo arrivato un entro, e fa due anni che abbiamo cominciato a rigeare a ianti corsi, e diante altra, che venivano a bere, a come un agamperemo, e a tastare i nostri voluti, e a scoprire l'uridione. E per dire che non mi sembrava di continuare a sviluppare l'attività agricola, e di nuovo, di poi tornare a Livi, e fa più migliore per sviluppare l'attività territoriale. Ci dovrebbe sviluppare, perché c'è un po' in Corsica, e noi abbiamo girato appena, come noi, in Sardegna, e al Baesehuasco, e questa attività si va già, si va già, e ci dovrebbe svilupparla, per far conoscere i nostri territori, e, a nostra maniera, i campadini. Ecco di così che si compie, e compa qui noi due ore, ringraziabili a tutti e a tutti, e a presto, in un'altra regione. RGFM e Campa Cui